Vangelo secondo Marco, Vangelo secondo Marco, capitolo 9, leggerò dal versetto 38 al versetto 41. Vangelo secondo Marco, capitolo 9, dal versetto 38 al versetto 41. Proseguiamo nello studio di questo libro, versetto dopo versetto, con un messaggio importante anche per noi oggi credenti. Marco scrive Giovanni, gli disse, maestro noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ci seguiva. Ma Gesù disse non glielo vietate perché non c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di me è per noi, chi non è contro di noi è per noi, chiunque vi avrà dato da bere un bicchiere d'acqua nel nome mio perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa. Questa mattina versetti importanti, brano che si trova in un contesto specifico di questo Vangelo. Ormai sappiamo che in questo contesto dal capitolo 8 Marco descrive il ministero di Gesù dedicato specificamente agli apostoli, mentre prima ha dedicato tempo alle folle predicando, chiamando al ravvedimento, manifestando opere potenti per mostrare che lui è il Messia, Dio incarnato, l'unica via per la salvezza, ora ad un anno dalla crocifissione dedica tempo ai discepoli, vuole istruirli, prepararli in vista di ciò che stava per accadere e soprattutto istruirli riguardo al discepolato. Sono versetti questi così come quelli precedenti importanti e pratici che riguardano noi, discepoli di Cristo. Infatti al capitolo 8 abbiamo visto che in questo contesto di insegnamento rivolto ai discepoli, Gesù chiede agli apostoli cosa pensava la gente di lui e cosa pensavano loro di lui. La risposta è stata questa, tu sei il Cristo, la conferma della loro fede in Gesù. Gesù è il Messia promesso nell'Antico Testamento. Dopo questa importante dichiarazione dal versetto 31 al 33 del capitolo 8, Gesù istruisce i discepoli riguardo alla natura del suo ministero, vuole prepararli in vista della sua morte e risurrezione. Questo era importante visto che aspettavano il regno. Gesù era là davanti a loro e attendevano il regno, ma Gesù parla di morte. Pietro infatti reagisce rimproverando Gesù e Gesù deve riprenderlo dicendo vattene via da me Satana. Pietro stava impedendo l'adempimento del piano del Padre, ossia era comunque ribellato a ciò che Gesù disse riguardo alla volontà di Dio. Poi dal versetto 34 al 38 istruisce i discepoli riguardo alla natura del discepolato. Chi è il discepolo di Cristo Gesù? In che modo segue Cristo? Quando afferma se uno vuol venire dietro a me, rinunzia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Seguire Gesù non significa aggiungere Gesù alla propria vita, una delle tante cose che riguardano la vita quotidiana di una persona. Seguire Gesù significa rinunciare a se stessi, essere disposti alla morte per l'amor di Cristo e ubbidire a Gesù. Infatti dice chi perderà la sua vita per l'amor mio e del Vangelo la salverà. Questo è il discepolo. Gesù disse questo dopo aver parlato della sua morte e della sua risurrezione. E poi al capitolo 9 invece la trasfigurazione Gesù che con tre apostoli sale su questo monte e fu trasfigurato. Qui manifesta un anteprima del regno futuro. Gesù ha parlato di morte, ma la sua crocifissione non annullava il futuro regno. Gesù è glorificato davanti ai loro occhi, manifesta che lui è il Messia. Lui è Dio incarnato, lui è il futuro re che regnerà su questa terra. Ora deve chiarire alcune cose abbiamo visto riguardo all'Elia. Elia che avrebbe preceduto il Messia e poi riguardo alla sua sofferenza Gesù ha mostrato che l'Antico Testamento annunciava la sofferenza di Cristo e di conseguenza questo era il piano di Dio. Questo era il piano di Dio. Dopo questa trasfigurazione abbiamo visto che Gesù guarisce un indemoniato, libera questo bambino indemoniato e in quell'occasione istruisce gli apostoli riguardo alla fede, riguardo alla preghiera. Una lezione importante che riguarda noi. Fede la preghiera. E poi dal 30 al 32 ritorna a parlare della sua crocifissione, ritorna ad annunciare la sua morte imminente, la sua risurrezione, vuole preparare i suoi discepoli convinti che si stava avvicinando il regno. In realtà Gesù stava per morire per la redenzione dei peccatori. Dopo questo annuncio della sua morte e risurrezione, abbiamo visto la scorsa domenica dal 33 al 37, Gesù istruisce i discepoli riguardo all'umiltà. Dopo aver preannunciato la sua morte, la sua umiliazione, ora qui istruisce i discepoli riguardo all'umiltà. Qui comprendiamo quello che c'era nel cuore degli apostoli. Mentre Gesù parla della sua umiliazione, a cosa pensano i discepoli? Per via avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande. Loro erano focalizzati su se stessi. Chi era il primo tra i discepoli? Chi era più importante? Che posto avrebbero avuto nel regno di Dio? Gesù chierisce, chi era il più grande nel regno di Dio? Onorato, colui che è l'ultimo di tutti. colui che è umile. L'ultimo. E manifesta questa umiltà come? Servendo. Il servo di tutti. Il discepolo è colui che è umile, che desidera mettersi al servizio per gli altri, non dominare sugli altri, non signoreggiare. Questo è quello che pensa il mondo. Secondo il mondo, chi è il primo? È colui che ha una certa autorità, potere, che è ricco, che è più intelligente. Ma Gesù evidenzia chi è il primo, l'ultimo di tutti, è il servo di tutti. E poi prende un bambino e lo prende in braccio. Davanti agli apostoli. Vuole illustrare chi è un discepolo di Cristo. Un discepolo è come un bambino, semplice, dipendente, bisognoso, che ha fiducia. Questo è il discepolo, che non ricerca una posizione di potere e autorità, ma desidera dipendere da Gesù, da Dio. Fratelli, questo è il discepolo, questo è il credente, che desidera dipendere da Dio. E poi parla però anche nel modo in cui relazionare con gli altri discepoli, perché dice chiunque riceve uno di questi bambini, ovvero chiunque riceve un discepolo che è umile, questo tipo di discepolo, riceve me. Qui vuole evidenziare che cosa? Come consideriamo e trattiamo gli altri credenti. Sulla base di cosa? Della loro autorità? Della loro posizione nella società? In base a quello che hanno? A quanto sono importanti? O semplicemente sulla base della loro appartenenza a Cristo? Chi riceve questo discepolo riceve Dio stesso, quando riceve un discepolo unicamente sulla base dell'appartenenza a Cristo, non sulla base della mentalità di questo mondo. Qui Gesù parla del discepolato, chi è il discepo? Come un bambino. Come vedremo anche al capitolo 10. Osservate quello che dirà al versetto 15. In verità vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto. Wow! Chi è colui che entra nel regno? Un discepolo che è come un bambino, che è semplice, bisognoso, dipendente, che ha fiducia, che è umile. Questo è il discepolo, questo è il credente. In che modo consideriamo gli altri credenti? Sulla base di cosa trattiamo gli altri credenti? Sulla base della loro appartenenza a Cristo, nel suo nome, riceviamo gli altri discepoli, o nel nome del mondo, o in base a quello che fanno, a quello che sono. Questo è l'insegnamento di Gesù. Questo insegnamento era molto importante, non solo in quel contesto, ma anche per noi. Infatti, che cosa accade subito dopo questo insegnamento? Versetto 38 Giovanni parla a Gesù, vedremo, e racconta il modo in cui lui ha agito in una certa circostanza nei confronti di un uomo che era un credente. L'insegnamento di Gesù ha toccato la coscienza di Giovanni e ha prodotto una reazione. Infatti, Luca 9,49, brano parallelo, Luca 9,49, ora qui non è tradotto letteralmente, ma letteralmente dice allora Giovanni rispondendo disse, questo dal testo greco, Giovanni rispondendo disse, cosa risponde Giovanni? Beh, risponde a quello che aveva udito da Gesù. Quando Gesù disse, chiunque riceve uno di questi bambini, dei discepoli, nel mio nome, nel mio nome, riceve me. Aveva indicato come ricevere gli altri discepoli nel suo nome, sulla base della sua appartenenza a Cristo, e qui Giovanni ora ricorda il modo in cui lui ha agito nei confronti di un uomo che vedremo era un credente. Giovanni ebbe dei dubbi riguardo al modo in cui aveva agito, ecco il modo in cui reagisce all'insegnamento di Gesù. Qui vedremo che Gesù condanna l'ospito esclusivista, vedremo la condanna dell'ospito esclusivista, la condanna da parte di Gesù dell'ospito esclusivista, l'ospito settario. Vedremo cosa significa. Al versetto 38 parleremo dell'atteggiamento, l'atteggiamento esclusivista dei discepoli, l'atteggiamento esclusivista dei discepoli, poi dal 39 al 41 l'insegnamento chiarificatore di Gesù, l'insegnamento chiarificatore di Gesù. Iniziamo con il versetto 38, l'atteggiamento esclusivista dei discepoli. Subito dopo l'insegnamento di Gesù riguardo a ricevere gli altri discepoli nel suo nome, Giovanni parla a Gesù. Reagisce in questo modo, toccato probabilmente nella sua coscienza, manifesta dei dubbi riguardo al modo in cui aveva agito nei confronti di un altro credente. E che cosa dice Giovanni? Maestro, insegnante, noi abbiamo visto qualcuno scacciare i demoni nel tuo nome e abbiamo, letteralmente potremmo tradurlo, e abbiamo cercato di impedirglielo perché non ci seguiva. Abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e abbiamo cercato di impedirglielo perché non ci seguiva. Giovanni qui racconta quello che lui e gli altri apostoli, forse il fratello Giacomo, avevano fatto nei confronti di questa persona che scacciava i demoni. Ora, non si parla di questa persona nel Nuovo Testamento, non sappiamo chi era, ma sappiamo quello che faceva con successo. Scacciava i demoni, scacciava i demoni nel nome di Cristo. Giovanni insieme a suo fratello o forse qualche altro apostolo avevano visto che questa persona scacciava i demoni nel nome di Cristo, ovvero con l'autorità di Cristo. Attraverso la terminologia di Marco e attraverso il contesto comprendiamo che scacciava realmente i demoni. Non era come alcuni uomini di cui si parla in Atti 19, innanzi capitolo 19 versetto 13 ora alcuni esorcisti itineranti giudei tentarono tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni dicendo io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annunzia. Quelli che facevano questo erano sette figli di un certo sceva ebreo capo sacerdote ma l'ospito maligno rispose loro conosco Gesù e so chi è Paolo ma voi chi siete? E l'uomo che aveva l'ospito maligno si scagliò su due di loro e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Ora in Marco 9 qui c'è un uomo che realmente scaccia i demoni e faceva ciò nel nome di Cristo con la sua autorità come hanno agito i discepoli come ha agito Giovanni glielo abbiamo vietato lo capiamo nel contesto grazie alla terminologia che cercarono di vietarglielo perché Marco qui presenta questi uomini che scacciavano i demoni è una realtà presente questo è quello che facevano ma loro cercarono prima di impedire a questo uomo di scacciare i demoni avevano provato a fare ciò non volevano che scacciasse i demoni tra l'altro nel nome di Cristo per quale ragione perché hanno agito in questo modo non ci seguiva non ci seguiva volevano impedire a quella persona di scacciare demoni nel suo nome perché non seguiva i discepoli non faceva parte del loro gruppo di discepoli riconosciuti erano focalizzati non sulla appartenenza a Cristo non sulla sottomissione a lui l'ubbedienza a lui ma sulla appartenenza al loro gruppo di discepoli in Luca 9 49 leggiamo che volevano impedire a quest'uomo di scacciare demoni perché non segue con noi non segue con noi non seguiva Gesù con noi con noi questa persona non era parte del gruppo di discepoli riconosciuti ecco l'atteggiamento esclusivista ecco lo spirito esclusivista un atteggiamento caratterizzato dall'esclusivismo ovvero siccome non faceva parte del loro gruppo siccome non faceva parte di questo gruppo di discepoli riconosciuti non poteva scacciare i demoni nel nome di Cristo perché usare il nome di Cristo visto che non seguiva Gesù insieme a loro non era parte di quel gruppo e per loro era errato fare ciò ora questa persona scacciava realmente i demoni avevano visto lui scacciare i demoni ma non seguiva Gesù insieme a loro questa persona capiamo che era un vero seguace di Cristo era un vero credente e quello che faceva lo dimostrava ma per i scepri non era abbastanza doveva far parte del loro gruppo doveva formalmente seguire Gesù insieme a loro Giovanni racconta tutto ciò proprio dopo che Gesù insegnò come ricevere gli altri discepoli nel mio nome nel mio nome non sulla base di qualcos'altro ecco l'atteggiamento esclusivista dei discepoli l'appartenenza a Cristo per i discepoli non bastava per ricevere quel discepolo quello che contava per loro era l'appartenenza al loro gruppo di apostoli mandati a scacciare i demoni in Marco 6 si parla di ciò ora come risponde Gesù di fronte a questo atteggiamento esclusivista come reagisce di fronte a questo loro spito settario di questo si parla dal versetto 39 fila 41 passiamo ora a questa seconda parte del brano l'insegnamento chiarificatore di Gesù l'insegnamento chiarificatore di Gesù Giovanni dimostra di avere dei dubbi riguardo il modo in cui aveva agito nei confronti di quest'uomo dopo che Gesù istruì i discepoli su come ricevere gli altri discepoli e ora Gesù chiarisce se quell'atteggiamento da parte di Giovanni e degli altri discepoli era corretto come risponde Gesù non glielo vietate questo è un imperativo Gesù proibisce quell'atteggiamento esclusivista proibisce condanna con lo spirito settario secondo cui quell'uomo doveva far parte del loro gruppo per poter scacciare i demoni Gesù risponde non glielo vietate secondo Gesù non doveva far parte del gruppo non doveva seguirlo insieme agli altri discepoli Gesù condanna il loro atteggiamento e spiega perché non dovevano impedirgli di scacciare i demoni qual è la ragione Gesù spiega perché non glielo vietate perché non c'è nessuno che faccia un'opera potente un miracolo scacciare i demoni in questo caso nel mio nome e sia in grado subito dopo di parlare male di me questo dice Gesù non c'è nessuno che faccia un'opera potente nel mio nome e sia in grado subito dopo di parlare male di me qui Gesù evidenzia due cose riguardo a quello che quest'uomo faceva la prima è questa un'opera potente quest'uomo realmente stava scacciando i demoni era un'opera potente miracolosa e poi non solo un'opera potente ma dice nel mio nome nel suo nome scacciava i demoni nell'autorità di Gesù associava questa sua opera al nome di Cristo questo faceva quest'uomo e tutto ciò dimostrava che era un vero discepolo di Cristo e di conseguenza non avrebbe parlato male di Gesù quello che faceva era la prova che era un vero seguace di Cristo non avrebbe parlato male di Gesù ma avrebbe proclamato la verità il fatto che era in grado di scacciare i demoni nel nome di Cristo era una chiara testimonianza che non era un nemico non c'erano ragioni per impedirli di operare nel nome di Cristo per Gesù quest'uomo non doveva necessariamente far parte del loro gruppo di discepoli per svolgere quel ministero quello che faceva era la testimonianza che non era ostile quest'uomo nei confronti di Gesù e degli apostoli che cosa contava la appartenenza a Cristo la sottomissione a Cristo l'obbedienza a Cristo e se quest'uomo scacciava demoni nel nome di Cristo quello che contava era ricevere un discepolo nel suo nome ma i discepoli invece cercano di impedire a quest'uomo di scacciare demoni perché non faceva parte del loro gruppo quest'uomo era un vero discepolo anche se non faceva parte di questo gruppo di discepoli riconosciuti Gesù qui evidenzia che non potava esterci questa contraddizione operare questo miracolo nel suo nome e poi parlare male di Gesù non era possibile se era un vero discepolo non era un nemico infatti cosa dice dopo versetto 40 letteralmente Marco scrive poiché colui che non è contro di noi è per noi qui spiega ulteriormente chi non è contro di noi è per noi l'uomo non era ostile scacciava i demoni nel nome di Cristo non era un nemico ma era invece per loro era dalla loro parte non era un nemico in Matteo 12 troviamo qualcosa di simile Matteo 12 30 qui riferimento ai farisei che dissero che Gesù scacciava i demoni per l'aiuto di Belzebù una grave bestemmia una cosa blasfema e dice riguardo a loro chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde qui al contrario i farisei che dimostrano di essere contro di lui grazie a quello che facevano ma in Marco 9 si parla di quest'uomo che operava nel nome di Cristo non era un nemico non era ostile Gesù proibisce questo atteggiamento esclusivista l'enfasi di questa frase e sull'ostrità chi non è contro di noi è per noi non era contro di loro ma era per loro operava con l'uomo con successo scacciava i demoni con potenza e tutto questo nel nome di Gesù associava quella sua opera a Gesù alla sua autorità tutto questo era sufficiente per riceverlo tutto questo era sufficiente per trattarlo come un discepolo Gesù aggiunge un'altra spiegazione al versetto 41 perché dice poiché infatti spiega ulteriormente per chiarire come ricevere e considerare gli altri discepoli poiché chiunque vi dà un bicchiere d'acqua nel mio nome letteralmente nel nome perché siete di Cristo nel nome perché siete di Cristo ovvero perché appartenete a Cristo in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa Gesù qui chiarisce come trattare gli altri discepoli e sulla base di cosa qui parla di dare un bicchiere d'acqua chi vi dà un bicchiere d'acqua perché siete di Cristo chi agisce in questo modo un piccolo servizio a motivo della vostra appartenenza a Cristo dice non perderà la sua ricompensa dice in verità qui enfatizza non perderà la ricompensa perché ha agito sulla base dell'appartenenza a Cristo per amore di Cristo per amore di Dio ed è incredibile perché nel testo greco ci sono due particelle negative è come se dicesse non perderà non perderà grande enfasi di certo non perderà la ricompensa Dio con certezza ricompenserà colui che vi ha dato un bicchiere d'acqua perché è agito per amore mio perché appartenete a Cristo anche un piccolo servizio che non è un'opera meritoria ma la testimonianza della fede in Dio a motivo dell'appartenenza a Cristo verrà ricompensata un servizio che testimonia che quello che conta è l'appartenenza a Cristo questa è l'enfasi di questo insegnamento un piccolo servizio un bicchiere d'acqua a motivo della vostra appartenenza a Cristo quando si agisce in questo modo mettendo al centro Cristo non la mentalità di questo mondo Dio ricompenserà ricompensa anche per un piccolo servizio perché fatto a motivo dell'appartenenza a Dio perché fatto per amore di Dio qui evidenzia come trattare gli altri discepoli fratelli e sorelle sulla base di cosa secondo la mentalità distorta di questo mondo che conta la bellezza i soldi il lavoro cosa conta in questo mondo no secondo l'appartenenza a Cristo per amore di Dio riceviamo e trattiamo gli altri discepoli questa certa ricompensa da parte di Dio anche per un semplice servizio a motivo di Cristo i discepoli non avevano agito in questo modo non avevano ricevuto questo discepolo perché non era parte del loro gruppo l'avevano escluso non focalizzandosi sulla appartenenza a Cristo di questo discepolo e qui ora dice a voi se qualcuno vi dà un bicchiere d'acqua perché siete di Cristo sarà ricompensato questo è quello che dovreste fare voi qui sta evidenziando che chi riceve un discepolo nel nome di Cristo riceve Dio stesso e chi serve un altro discepolo serve Dio stesso e voglio mostrarvi ciò attraverso un brano Matteo 25 Matteo capitolo 25 osservate quello che Gesù dice qui qui parla del giudizio futuro versetto 32 tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri leggiamo dal 37 allora i giusti gli risponderanno dopo che diranno dopo che Gesù dirà diciamo dal 33 che è meglio 34 allora redirà quelli della sua destra venite voi i benedetti del padre mio ereditate il regno che è stato preparato fin dalla fondazione del mondo perché ebbi fame e mi deste da mangiare ebbi sete e mi deste da bere fui straniero e mi accoglieste fui nudo e mi vestiste fui ammalato e mi visitaste fui in prigione e veniste a trovarmi allora i giusti gli risponderanno signore quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare o assettato e ti abbiamo dato da bere quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto o nudo e ti abbiamo vestito quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti questa è la risposta il re risponderà loro in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli l'avete fatto a me non solo chi riceve un discepolo riceve Dio stesso ma chi serve un discepolo serve Dio stesso questo è il messaggio di Gesù in questi versetti la condanna dell'ospito esclusivista istruisce su come considerare e trattare gli altri discepoli un brano importante questa mattina subito dopo l'insegnamento di Gesù sull'umiltà e sul ricevere i discepoli nel suo nome Giovanni è toccato nella sua coscienza ha dei dubbi riguardo al modo in cui lui e gli altri discepoli hanno agito nei confronti di quest'uomo che scacciava i demoni in nome di Cristo un atteggiamento esclusivista avevano manifestato questo esclusivismo vero quest'uomo doveva far parte del loro gruppo per essere ricevuto non ci segue Giovanni dice questo era il problema non seguiva Gesù insieme a loro e Gesù qui istruisce i discepoli e proibisce questo loro atteggiamento quell'uomo Gesù dice operava in modo miracoloso era il suo nome era per loro non era un nemico questo bastava per riceverlo quello che conta è l'appartenenza a Dio e anche un piccolo servizio fatto nel nome di Cristo perché siede di Cristo riceverà una ricompensa Dio ricompensa quando si agisce sulla base dell'appartenenza a Cristo anche un piccolo servizio è l'appartenenza a Dio che deve motivarci nella relazione fratelli e sorelle nient'altro l'appartenenza a Dio e servire i discepoli sapendo che facendo ciò serviamo Dio stesso quante volte il credente potrebbe agire sulla base di qualcos'altro perché influenzati da questo mondo ora qual è l'applicazione di questo brano come applicarlo nella nostra vita sapete prima voglio iniziare con delle errate applicazioni perché purtroppo i credenti potrebbero nell'ignoranza applicare questi versetti in modo errato comprendendo in modo errato questo brano voglio mostrare alcune errate applicazioni per poi presentare la giusta applicazione ecco la prima errata applicazione alcune dicono che è possibile servire Dio senza far parte di una chiesa locale è possibile come qui i discepoli che pretendevano che questo uno facesse parte di questo gruppo quindi anche al presente qualcuno può servire Dio senza far parte della chiesa locale beh questo è totalmente errato perché perché contrasta dall'insegnamento biblico per esempio in Efesini 4 in 16 versetti ricordate quando parla della chiesa essenziale per ciascun credente è lì che cresciamo e tra l'altro non troviamo nel nuovo testamento lettere scritte alle chiese locali è chiaro che la chiesa locale è fondamentale questa è un'errata applicazione per servire Dio bisogna far parte della chiesa locale perché questo è quello che insegna la scrittura molti brani un'altra errata applicazione alcuni direbbero che qualsiasi persona che apparentemente scaccia un demone e usa il nome di Gesù è un vero discepolo qualsiasi persona che apparentemente scaccia un demone o i demoni e usa il nome di Gesù è un vero discepolo sbagliato in Matteo 7 in Matteo capitolo 7 questo è quello che Gesù disse versetto 22 molti mi diranno in quel giorno signore e signore non abbiamo noi profetizzato il nome tuo e il nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti allora dichiarerò loro io non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me malfattori non basta dire di scacciare i demoni nel nome di Gesù perché molti diranno questo Gesù dirà non vi conosco non siete i miei discepoli tra l'altro i credenti alla luce del nuovo testamento sono chiamati a pregare nel nome di Cristo affinché Dio scacci i demoni non c'è un'esortazione nelle epistole rivolte alla chiesa a parlare ai demoni preghiamo affinché Dio scacci i demoni perseguendo l'esempio dell'arcangelo Michele in Giuda 9 questo è quello che leggiamo invece l'arcangelo Michele quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè non osò pronunziare contro lui in giudizio ingiurioso ma disse ti sgrid il Signore questo è quello che i credenti devono fare pregare affinché Dio scacci i demoni non siamo gli apostoli o discepoli che in quel contesto ricevettero questa autorità non vediamo ciò nelle epistole un'altra errata applicazione secondo alcuni in modo assoluto non possiamo giudicare coloro che operano nel nome di Gesù ovvero basta che operano nel nome di Gesù e nessuno può giudicare falso la scrittura ci esorta a discernere e a giudicare secondo giustizia ancora una volta un brano in Matteo 7 Matteo 7 versetto 15 guardatevi dai falsi profeti i quali vengono verso di voi investi da pecore ma dentro sono lupi da pace investi da pecore apparentemente erano credenti li riconoscerete dai loro frutti si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi così ogni albero buono fa frutti buoni ma l'albero cattivo fa frutti cattivi un albero buono non può fare frutti cattivi né un albero cattivo far frutti buoni ogni albero che non fa frutto è tagliato e gettato nel fuoco li riconoscerete dunque dai loro frutti è importante discernere e giudicare e considerare i frutti non basta essere apparentemente una pecora perché potrebbe essere un lupo in veste la pecora in Giovanni 6 24 Gesù disse di giudicare non secondo apparenza ma secondo giustizia secondo giustizia in modo conforme alla parola di Dio oppure un altro brano che riguarda tutt'altro ma importante dove si parla di giudizio da parte dei credenti in prima corinzi 6 quando parla dei processi fra i credenti quando qualcuno di voi ha una lite con un altro ha il coraggio di chiamarlo in giudizio davanti agli ingiusti anziché davanti ai santi non sapete che i santi giudicheranno il mondo se dunque il mondo è giudicato da voi siete voi indenni di giudicare delle cose minime non sapete che giudicheremo gli angeli quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita quando dunque avete da giudicare su cose di questa vita costituite come giudici persone che nella chiesa non sono tenute in alcuna considerazione dico questo per farvi ergogna è possibile che non vi sia tra di voi neppure una persona saggia capace di pronunciare un giudizio tra un fratello e l'altro in un altro contesto certamente ma qui vediamo che è possibile giudicare secondo giustizia non la maldicenza e non la critica e non secondo apparenza ma secondo giustizia dobbiamo discernere se qualcuno sta operando davvero nel nome di Cristo queste sono alcune errate applicazioni qual è invece la giusta applicazione qual è la giusta applicazione e questa non avere un atteggiamento esclusivista ovvero questo atteggiamento che potrebbe caratterizzare i credenti i quali pretendono che gli altri credenti debbano fare le stesse cose che fanno loro avere le stesse opinioni praticare le stesse cose o per esempio potremmo giudicare chi non fa parte di questa chiesa semplicemente perché non è parte di questo gruppo questo è un atteggiamento esclusivista che Gesù condanna per esempio un modo di organizzare l'incontro di chiesa non possiamo criticare gli altri sentendoci superiore sulla base di nostre idee e opinioni questo è quello che Gesù condanna attenzione come guardiamo gli altri e la pretesa che potremmo avere su cose che non riguardano la parola di Cristo che non riguardano Cristo ecco l'atteggiamento esclusivista pretendere che gli altri debbano fare esattamente quello che noi facciamo essere come noi praticare le stesse cose Gesù condanna questo atteggiamento però attenzione Gesù condanna l'atteggiamento esclusivista ma il Vangelo è esclusivo il Vangelo è esclusivo la salvezza è possibile solo in Cristo non solo unicamente chi fa la volontà del Padre entra nel Regno dei Cieli il Vangelo è esclusivo Gesù condanna lo spirito esclusivista ma questo non annulla l'esclusività del Vangelo fratelli quindi sulla base di cosa considerare e trattare gli altri discepoli unicamente sulla base dell'appartenenza a Cristo sulla base della sottomissione a Cristo sulla base dell'obbedienza a Cristo questo deve essere al centro della nostra relazione con gli altri questo deve determinare il modo in cui relazioniamo con gli altri l'appartenenza a Cristo non altre cose non altre regole non le nostre opinioni e idee ricevere e trattare gli altri discepoli unicamente sulla base della loro appartenenza a Cristo Gesù in questo brano e anche in quello precedente presenta delle motivazioni importanti in relazione al modo in cui ci comportiamo con gli altri discepoli perché dice che ricevere un discepolo nel suo nome significa ricevere Dio stesso e poi dice servire un discepolo nel suo nome significa essere ricompensati da Dio ecco la motivazione ad agire fedelmente il modo il modo in cui ci comportiamo verso gli altri ha un impatto sul nostro rapporto con Dio e ha un impatto anche sul nostro futuro la ricompensa però vorrei leggere un brano nel Nuovo Testamento che applica in modo chiaro l'insegnamento di Gesù di questi versetti alla condanna di un ospito settario un ospito esclusivista un brano importante che abbiamo già studiato in passato e che voglio leggere Romani 14 Romani capitolo 14 un brano molto importante che voglio leggere anche se è lungo ma qui abbiamo una chiara applicazione dell'insegnamento di Gesù il quale condanna l'ospito settario qui una breve introduzione Paolo parla di cose che non riguardano il Vangelo cose secondarie in questo caso il cibo e estruisce sul come relazionare con gli altri discepoli per aspetti che non riguardano il Vangelo come trattare gli altri discepoli ed evidenzia la grande responsabilità che abbiamo davanti a Dio ascoltate bene le parole di questo brano perché è fondamentale quello che Paolo dice ci responsabilizza e mette in evidenza la gravità nel trattare male gli altri discepoli per cose che non riguardano il Vangelo considerando che Dio che Cristo è il loro Signore un brano importante Romani 14 accogliete colui che è debole nella fede ma non per sentenziare sui suoi scrupoli uno crede di poter mangiare di tutto mentre l'altro che è debole mangia legumi verdure colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto perché Dio lo ha colto chi sei tu che giudichi il domestico altrui se sta in piedi o se cade è cosa che riguarda il suo padrone Dio ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi uno stima un giorno più di un altro l'altro stima tutti i giorni uguali sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente chi ha riguardo il giorno lo fa per il Signore e chi mangia di tutto lo fa per il Signore perché ringrazia Dio e chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso perché se viviamo viviamo per il Signore e se moriamo moriamo per il Signore sia dunque che viviamo o che moriamo siamo del Signore poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi e aggiunge ma tu perché giudichi tuo fratello e anche tu perché disprezzi tuo fratello poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio infatti sta scritto come è vero che vivo dice il Signore ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fraterno né a essere per lui un'occasione di caduta io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in se stesso però se uno pensa che una cosa è impura per lui è impura ora se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato tu non cammini più secondo amore non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo perché il regno di Dio non consiste in vivande né in bevande ma è giustizia pace gioia nello Spirito Santo perché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione non distruggere per un cibo l'opera di Dio ovvero il credente certo tutte le cose sono pure ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato è bene non mangiare carne né bere vino né far nulla che possa essere occasione di caduta al fratello tu la fede che hai serba la per te stesso davanti a Dio beato colui che non condanna se stesso in quello che approva ma chi ha dei dubbi riguarda ciò che mangia è condannato perché la sua condotta non è dettata dalla fede e tutto quello che non viene da fede è peccato Paolo istruisce i credenti su come relazionare con gli altri credenti per quanto riguarda cose che non riguardano il Vangelo cose secondarie la tolleranza anziché essere esclusivisti e ricevere gli altri discepoli in base a quello che fanno non in base alla loro appartenenza a Cristo Paolo dice non distruggere per un cibo o per qualsiasi altra cosa secondaria l'opera di Dio il modo in cui ci comportiamo verso gli altri ha un impatto nel nostro rapporto con Dio è importante quindi fare attenzione come trattiamo gli altri discepoli Gesù condanna lo spirito esclusivista siamo chiamati a ricevere e a trattare gli altri discepoli sulla base unicamente della loro appartenenza a Cristo per amore di Dio mettendo da parte qualsiasi cosa secondaria ma quante volte la Chiesa è divisa per cose secondarie critiche giudizi per cose che non riguardano il Vangelo di Cristo trattando gli altri discepoli male per cose secondarie senza amore e sapete questo ha un impatto in quello che è il nostro rapporto con Dio Gesù qui chiarisce chi è il discepolo umile dipendente da Dio e come tratta gli altri discepoli e di questo parleremo anche la prossima domenica in parte un insegnamento molto importante anche per noi che cambia il modo in cui guardiamo gli altri credenti il modo in cui trattiamo gli altri credenti incoraggiati a considerare che al centro della relazione c'è Cristo unicamente Cristo un insegnamento che è un insegnamento di questo che è un insegnamento di questo